I nostri operativi hanno trovato degli alleati ad Astana. I civili sono pronti a lottare contro gli aggressori cinesi e americani. Possiamo usare questo esercito popolare per creare problemi al nemico. Mentre Astana sarà in fiamme, i nostri uomini potranno recuperare rifornimenti preziosi. Tutte le unità a rapporto nel centro cittadino. Disordini in corso al vecchio palazzo del governo. Sì, procedo immediatamente. I rivoltosi sono a Xi'an Road vicino al quartiere finanziario. La settima strada è bloccata, dovrò fare un giro intorno. Una folla procede verso il centro cittadino. Qui 4 vettori. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Molto di uno. Ci torna un quasi tempo. Siamo nel mezzo di una rivolta. Chiamate la squadra di sottosa. Aeroporto è ancora sicuro. Il guardiero è scegato. E' un'altra cosa. Chiamate la guardiera di un mezzo di una rivolta. Carri, con un memologo. E' un tanto vero. Centrale, con due esi. Non posso arrivarti. Non sono al salto in corso. Ma 30, no. Di controllo. Abbiamo spinto alla rivolta la popolazione della città. Sfruttate la polla inferocita per radunare risorse per la nostra causa e scacciate cinesi e americani da questa terra. Raccogliete 40.000 dollari americani distruggendo la città e depredando ogni oggetto di valore. Obedirò. Obedirò. Vieni per la mano. Vieni per la mano. Vieni per la mano. Vieni per la mano. Sono solo un popoletto La rote è più o meno Siamo a metà strada verso la vittoria La rote è più o meno Il guerriero è caduto State agendo molto bene Sì, sì Il guerriero è caduto Continuate a raccogliere denaro Ci siamo quasi Quattro fronte al gusto No parmiate Il guerriero è caduto 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 Il guerriero è caduto